È sempre più internazionale l'interesse per l'Aquila e per la sua ricostruzione. Lo smart tunnel dei sottoservizi ha suscitato addirittura l'attenzione dell'azienda che si sta occupando della costruzione del nuovo aeroporto di Bogotà e il Dorado 2 che sarà completato entro il 2023 a supporto di quello esistente che si trova a circa 30 km. Il nuovo aeroporto, i cui studi per la fattibilità iniziarono nel 2013, è collocato tra Facatativà e Madrid, in Colombia. Una delegazione di tecnici, accompagnati da Fabio Franchi dell'Università dell'Aquila, da funzionari dell'USRA e da tecnici di Asse Centrale SCARL, che si sta occupando della realizzazione del tunnel, hanno fatto visita in città per osservare più da vicino il tunnel intelligente. L'interesse per l'infrastruttura parte dalla complessità di realizzare una tale opera in un centro storico già urbanizzato, seppur nel doposisma, con palazzi antichi da preservare. Ai tecnici Aquilani hanno spiegato che anche loro, nella realizzazione del nuovo aeroporto, hanno utilizzato due tunnel sotterranei, uno per l'elettricità e uno per alimentare lo scalo, ma con difficoltà certamente inferiori rispetto a quelle che vive in una città come l'Aquila, avendo agito loro in un campo completamente libero. Insomma, la realizzazione del tunnel in un centro storico antico per loro è quasi una follia, un'assoluta novità, una sorta però di modello da tenere in considerazione per lavori futuri. La delegazione colombiana ha visitato il tratto sotterraneo già terminato, tra quattro cantoni e piazza Duomo. Una visita che i tecnici hanno ritenuto molto interessante per capire come si possono realizzare infrastrutture del genere in condizioni diverse dalle loro. Il contatto con la città dell'Aquila c'è stato nella recente partecipazione della città a Barcellona, allo Smart City World Congress, dove erano presenti i rappresentanti di Asse Centrale Scarra, della Gran Sasso Acqua, dell'Usra, il Sindaco Biondi e l'Università. Un modo, quello attuato a Barcellona, per mostrare come la città si sta comportando sui temi dell'innovazione e della digitalizzazione. Una vetrina per scambiarsi buone pratiche, modelli e l'Aquila, anche attraverso la visita di questa delegazione colombiana, continua a suscitare molto interesse e ad essere presa spesso come modello.